Abusi sessuali nei confronti di una bambina di 6 anni, questa è l'accusa che ha portato in carcere il nonno della piccola, un sessato ottenne residente in provincia di Trapani, arresto effettuato dai carabinieri di Sciacca su disposizione della procura. Un episodio che mi ha atturbato ma non mi lascia intimorire e vado avanti, così Margherita Laroccaruvolo, sindaco di Montevago, destinataria di una busta contenente due proiettili, tantissimi gli attestati di solidarietà. A Ribera il sindaco Ruvolo ha zerato la giunta e si è preso due giorni per una verifica in seno alla sua maggioranza, non dovrebbe essere un'operazione come quella operata da Francesca Valenti, ossia una sostituzione in blocco. Covid, un invito alla prudenza, quello che arriva oggi dal commissario dell'Asp sulla situazione epidemiologica in provincia dove il virus continua a circolare, Sicilia prima per contagi e non è ancora il momento di abbassare la guardia. Manutenzione stradale dopo la contrada Isabella si interviene in via Marco Polo, sono in corso da alcuni giorni i lavori di messa in sicurezza dell'arteria grazie a un mutuo da 500.000 euro con la cassa Depositi e Prestiti. Calcio in programma domenica la sfida casalinga tra Unitas Schiac e Dolce Onorio Marsala, ma la sfida potrebbe giocarsi a porte chiuse a causa della mancanza di alcune relazioni tecniche riguardanti lo stadio Gurrera, chieste dalla Questura. Ben ritrovati a RMK Notizie, in apertura una notizia orribile di abusi sessuali nei confronti di una bambina di 6 anni, quella che è venuta fuori al termine di un'inchiesta avviata nell'agosto scorso dalla magistratura di Sciacca. L'orco era il nonno della bambina. C'è il servizio. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Sciacca su disposizione della locale procura della Repubblica. In manette è finito un uomo di 68 anni, residente in provincia di Trapani, e accusato di avere compiuto atti sessuali con la nipote di 6 anni e averle mostrato materiale pornografico. Una vicenda orribile, ancor più perché è avvenuta nel contesto familiare, quello che dovrebbe proteggere, e invece l'orco in questo caso era il nonno. Il provvedimento restrittivo è giunto al culmine di un'inchiesta iniziata alla fine di agosto del 2021, dopo che i genitori avevano denunciato all'autorità giudiziaria quel che la bambina aveva loro raccontato quando erano andati a riprenderla a casa del nonno, ossia che quella stessa mattina le aveva fatto vedere dal suo telefonino foto di uomini e donne nudi che facevano l'amore e le aveva mostrato nel bagno di casa le proprie parti intime. Era il 24 agosto, la piccola inoltre aveva raccontato anche altri particolari avvenuti l'anno prima, quando il nonno l'aveva molestata. Madre e padre della bambina si erano rivolti ad una psicologa per capire come aiutare la figlia e poi avevano raccontato tutto ai magistrati della Procura della Repubblica di Sciacca. La stessa autorità giudiziaria ha nominato altri due periti che hanno assistito alle rivelazioni della bimba sulle molestie subite dal nonno e definite dagli inquirenti puntuali. Davanti agli psicologi incaricati dai magistrati, la bambina ha ripetuto con lucidità i comportamenti del nonno. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che nei due smartphone del 68enne c'erano link dei siti pornografici e che attraverso la cronologia delle ricerche sul web di uno dei due dispositivi riferiti alla data specifica del 24 agosto, si trovavano video pornografici il cui contenuto corrispondeva al racconto fatto dalla piccola vittima. Il provvedimento restrittivo è stato richiesto dalla Procura della Repubblica e autorizzato dal GIP del Tribunale di Sciacca. L'uomo adesso si trova in carcere. Parliamo adesso della grave intimidazione subita dalla parlamentare regionale e sindaco di Montevago Margherita Laroccaruvolo, destinataria di una busta contenente due proiettili. Al nostro telegiornale la presidente della Commissione Salute dell'Ars si dice turbata dall'accaduto, ma aggiunge che non si lascerà intimorire. Massimo D'Antoni. Mi chiedo se è legato alla mia attività di sindaco, se è legato ad altro, sempre inerente al mondo della politica o dell'attività che svolgo, perché penso che la busta è indirizzata al sindaco del comune di Montevago, quindi credo che, non lo so, magari è un balordo e io mi preoccupo fino a un certo punto, perché voglio dire, quello che ho fatto l'ho fatto a tessa alta, continuerò a lavorare sia per la mia comunità che per questa provincia, per il ruolo che in questo momento rivesto, quindi non mi lascerò intimorire, però sono sicuramente momenti che turbano fortemente. Non riesce a spiegarsi in quale contesto possa essere maturata la gravissima intimidazione subita. L'onorevole Margherita Larocca Ruvolo, la parlamentare regionale e presidente della Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana, è stata destinataria di una lettera indirizzata al comune di Montevago, di cui è sindaco. Lettera recapitata ieri da un postino. Conteneva due proiettili, insieme ad un santino della Madonna delle Lacrime e una foto di Papa Francesco, con in braccio una bambina, la prima cittadina ha immediatamente denunciato i fatti alla locale stazione dei Carabinieri. Onorevole Larocca Ruvolo, intanto la nostra solidarietà, come ha reagito di fronte a questa vicenda? Intanto grazie, ma come devo reagire? Sono rimasta svalordita, diciamo, sono rimasta lì per lì senza parole, perché aprire un plico che ti arriva, una busta gialla, poi all'interno trovi una sorpresa che non ti aspetti, io mi sono preoccupata all'inizio, insomma sono stata, poi dopo ho chiamato subito i Carabinieri, sono venuti a prendere il contenuto della busta, mi sono regata in caserma per fare la denuncia, poi sono venuti, insomma, altri da sciacca, ma ho avuto la solidarietà del prefetto immediata, del colonnello, del generale Castello, quindi ti senti, ho sentito questa protezione, diciamo, di chi vuole rassicurarti, insomma, ecco, quindi ora sono qua a capire che perché soprattutto mi si manda una cosa del genere, insomma, che cosa... Quindi lei non si spiega il motivo per cui si è stata, a parte il fatto che nessun motivo lo giustificherebbe, ma in ogni caso lei non si spiega il motivo? No. E sono tantissimi gli attestati di solidarietà e vicinanza a Margherita La Roccaruvolo da parte di forze politiche, istituzioni e associazioni a vari livelli. È doveroso manifestare la nostra vicinanza e il nostro affetto al sindaco di Montevago per il vile atto intimidatorio subito, commenta l'amministrazione comunale di Sciacca nel dirsi certa che non verranno meno il coraggio e l'impegno della parlamentare regionale nel diffondere valori come correttezza e legalità nella gestione della cosa pubblica. Solidarietà anche da parte del sindaco di Ribera Matteo Ruvolo a nome personale e di tutta l'amministrazione, dalla presidenza del Consiglio Comunale di Ribera a nome di tutti i consiglieri, da Forza Italia, dal gruppo di Diventerà Bellissima e dal coordinamento di Ribera del Movimento 5 Stelle. Solidarietà e vicinanza alla parlamentare regionale anche da parte dei consiglieri comunali di opposizione di Menfi del gruppo Idea Menfi. A livello provinciale c'è la solidarietà al sindaco di Montevago da parte di Fratelli d'Italia in una nota firma del commissario provinciale Calogero Pisano e da parte del commissario del Libero Consorzio di Agrigento. L'onorevole Larocca Ruvolo è da sempre una componente preziosa, preparata e puntuale della Commissione Antimafia. A lei va il nostro affetto e la nostra preoccupazione per quanto accaduto. Questo è invece il commento di Claudio Fava, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia dell'ARS. Sempre a livello regionale, vicinanza e solidarietà da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS, da parte del capogruppo dell'Udc Eleonora Locurto e da parte del capogruppo del Partito Democratico Giuseppe Lupo. Solidarietà, infine, da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica, di cui Margherita Larocca Ruvolo è la vicepresidente. E voltiamo pagina. Il sindaco di Ribera ha azzerato questa mattina la giunta. Si riserva 48 ore per una verifica politica all'interno della sua maggioranza. Un provvedimento che arriva ad un anno e mezzo dalle elezioni, ma non sembra riproporre l'operazione fatta da Francesca Valenti Asciacca, ossia una sostituzione di tutti gli assessori. Sentiamo. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, azzera la giunta ad un anno e mezzo dalle elezioni amministrative. Nessun particolare problema politico, precisa Ruvolo, il quale parla piuttosto di una verifica in corso d'opera e che era stata prospettata già al momento delle elezioni. Dopo un anno e mezzo di amministrazione, aggiunge il sindaco, ritengo necessario un azzeramento per rilanciare l'attività. La decisione è stata comunicata questa mattina agli assessori e in giornata il provvedimento sarà formalizzato. Matteo Ruvolo si è riservato 48 ore per sentire le forze politiche che lo sostengono, per poi decidere il da farsi. Al momento non è chiaro se ci sarà una sostituzione totale o parziale degli assessori. Ovviamente circolano delle indiscrezioni, secondo le quali la giunta Ruvolo bis, sarà avvarata con il sacrificio di due componenti di quella nominata durante la campagna elettorale del 2020. Voci di corridoio riferiscono in particolare che Matteo Ruvolo dovrebbe sacrificare Emanuele Macaluso e Giuseppina Zabbara. Ad entrare in giunta al posto loro dovrebbero essere Giovanni Di Caro, consigliere comunale in carica in forza Fratelli d'Italia, e Davide Caico, rappresentante di Diventerà Bellissima, ex vice sindaco di Carmelo Pace. Dovrebbero essere riconfermati invece il vice sindaco Giuseppe Tramuta e gli assessori Leonardo D'Augello e Mariella Ragusa. Un azzeramento della giunta che evidentemente serve a Matteo Ruvolo per lanciare un messaggio sulleati, ovvero sia che nessuno può dirsi del tutto estraneo alla verifica. Rimane sullo sfondo la difficoltà politica di un primo cittadino, chiamato evidentemente a rivedere gli equilibri politici della coalizione, che lo sostiene, che al momento è addirittura più robusta del giorno delle elezioni, visto che ad appoggiarlo sono 11 consiglieri, uno in più di quelli ottenuti con il voto dopo il passaggio della consigliera Aurora Liberto nel gruppo di Diventerà Bellissima. Ancora politica, mentre c'è chi discute e organizza riunioni, Ignazio Messina è ormai da settimana in piena campagna elettorale a Sciacca. Il candidato a sindaco ieri pomeriggio ha avviato l'attività dello Sciacca Lab. L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle scelte finalizzate alla costruzione di un programma condiviso per il rilancio della città. A questo primo incontro dello Sciacca Lab hanno partecipato artisti, imprenditori, docenti universitari e professionisti. La riunione si è svolta sulla piattaforma Zoom, con intervento iniziale di Ignazio Messina e poi degli altri partecipanti. Un'iniziativa, quello dello Sciacca Lab, che proseguirà coinvolgendo altri soggetti nell'obiettivo di individuare le priorità e le strategie per la ripartenza della città. Riprendiamo il telegiornale. Non abbassare la guardia è quanto chiede il commissario dell'ASP Mario Zappia nel consueto punto settimanale sulla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento. Ascoltiamolo. Un invito alla prudenza, quello che arriva dal commissario dell'ASP Mario Zappia rispetto alla situazione epidemiologica in provincia di Agrigento, mentre tutta la regione registra ancora un elevato numero di contagi che si riflettono inevitabilmente sulle ospedalizzazioni, nonostante le vaccinazioni. Non abbassiamo la guardia, perché siamo in una fase in cui sembra che ci sia stato liberi tutti, però vi accorgerete da quello che vi diciamo che la situazione del Covid non solo in provincia di Agrigento, ma in tutta Italia, non diminuisce se non per un fisiologico effetto di quelli che sono stati i vaccini e che quindi ci hanno portato a essere in una condizione che ci consente di guardare avanti non con pessimismo, ma con realismo. Vi dico subito che la nostra regione in questo momento è al primo posto in Italia per numero di positivi e quindi i contagi continuano a mantenersi a un certo livello. Nella nostra provincia di Agrigento ancora non siamo scesi al di sotto delle tre cifre perché ne abbiamo 300-500 casi positivi al giorno, quindi sono numeri importanti che poi come sapete hanno refluenza per quanto riguarda il contact tracing e quindi il tracciamento dei positivi con tutto quello che ne consegue per eventuali solamente altri. A questo proposito troverete in coda all'appuntamento di oggi una tabella che vi aiuta un po' al comportamento sia per le quarantene che per gli isolamenti da parte delle persone che sono positive. Però vi dico subito e anche velocemente quella che è la situazione dei nostri ospedali che continuano a ricalcare quello che abbiamo detto all'inizio della presenza del virus e ancora nella nostra provincia presente. Abbiamo nella rianimazione di Agrigento 5 posti su 4, quindi siamo al di là della capienza che noi avevamo destinato, mentre invece a ribera la situazione con 8 posti liberi per 10. Stessa cosa per quanto riguarda la medicina di Agrigento e quella di ribera, abbiamo 5 posti su 30 ad Agrigento liberi, quindi 25 occupati, quindi capite bene cosa voglio dire, e 32 posti su 42 a ribera in medicina. Quindi ovviamente i nostri reparti ci impegnano ancora in maniera considerevole. A preoccupare il commissario dell'ASPE è anche l'andamento della campagna vaccinale, soprattutto nella fascia pediatrica. Io continuo a girare gli hub e vedo che le persone sono sempre di meno. Questa settimana voi vedete che noi abbiamo fatto solo 11.250 vaccini. 11.250 sono un numero, diciamo abbastanza, considerando tutto, le terze dosi, le seconde dosi e le prime dosi su quali mi soffermo un attimo in più sono arrivate a 1.100. Sono altri 1.100 novax che si sono convinti, però ricordate 6.000, 4.000, 5.000, 2.000 settimana scorsa, 1.100 questa settimana. Quindi vuol dire che ancora oggi la resistenza si mantiene e noi non riusciamo ad avere altri modi se non portare le vaccinazioni quanto più possibile in prossimità. Continuiamo a mantenere aperti gli hub, gli altri punti vaccinali che ci consentono di andare in prossimità alle vostre case, però i numeri diventano adesso oserei dire anche risibili. Come ancora peggio la vaccinazione per i bambini, perché il numero di bambini questa settimana abbiamo 4 giorni su 7 che sono scese al di sotto dei 200, 105 nella giornata del 16 febbraio, quindi anche per i bambini in tutta la settimana abbiamo avuto pochi vaccini. Furto all'interno del palazzo comunale di Sciacca. Nella notte è stato sottratto da ignoti un decespugliatore. Dopo aver scoperto il fatto è stata presentata denuncia alla locale stazione dei carabinieri. Adesso sarà necessario reperire un nuovo decespugliatore per il personale addetto alla scerbatura, attingendo al fondo di riserva del sindaco. Furto di energia elettrica, 5 le persone denunciate invece a Castelvetrano dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, che stanno effettuando una serie di servizi mirati al controllo delle forniture di energia elettrica, manomissioni di contatori e allacce abusivi alla rete pubblica. I militari hanno appurato che i denunciati avrebbero realizzato abusivamente un allaccio alla rete pubblica sottraendo energia elettrica per 20 mila euro, alimentando le abitazioni di residenza. Mentre a Trapani un imprenditore avrebbe alimentato per anni l'intera attività commerciale dove è in corso il calcolo sull'ammontare dell'entità di corrente sottratta nel tempo. Sono in corso già da alcuni giorni. Lavori di ripristino e messa in sicurezza di via Marco Polo a Sciacca. Il cantiere è stato aperto grazie ad un mutuo da 500 mila euro aperto dal comune di Sciacca con la cassa depositi e prestiti che ha previsto gli interventi già completati in via Aldomoro. Calogero Parlabiano. Lavori in corso a Sciacca in via Marco Polo. Arteria stradale di fondamentale importanza per la ricezione turistica perché conduce verso la spiaggia di Sovareto e verso gli alberghi di Sciacca Mare. Anche in questo caso l'intervento è rivolto alla messa in sicurezza e sistemazione della strada con la posa di nuovo asfalto e l'eliminazione di avvallamenti, buche e transenne. I lavori sono stati voluti dal comune di Sciacca che ha sottoscritto nei mesi scorsi un mutuo con la cassa depositi e prestiti di 500 mila euro. Con il medesimo appalto, come si ricorderà, si è intervenuto pure in via Aldomoro nel quartiere Isabella, dove il cantiere è stato chiuso da qualche giorno ed ha permesso la sistemazione del manto stradale dalla rotonda che mette in zona fino al bivio che poi conduce verso località San Calogero. In entrambi i casi si tratta di lavori che i residenti e gli utenti delle arterie stradali attendevano da tempo e più volte segnalati. Sia via Moro sia via Polo versavano infatti in condizione disastrosa da anni, con disagi e pericoli che spesso hanno determinato anche dei sinistri stradali, con danno economico per le casse dell'ente locale. Questo secondo intervento però, rispetto al primo, verrà eseguito in un tratto più breve di strada. Ad intervenire è una ditta di Favara che si è giudicata all'appalto. Infine, il cantiere si sposterà anche in via a Lido, dove si interverrà in un altro breve tratto stradale, questa volta all'altezza della spiaggia della Tonnara. Si tratta di lavori voluti dall'amministrazione comunale, preseduta oggi dal sindaco Francesca Valenti. Due termovalorizzatori in Sicilia e sette aziende in corsa. È quanto emerso durante la conferenza stampa a Palazzo d'Orlean, indetta dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, insieme all'assessore all'energia Daniela Baglieri, al dirigente generale del Dipartimento Rifiuti, Calogero Foti. Per quello della Sicilia occidentale sono in corsa tre società, quattro invece per quello nella Sicilia orientale. Il corso per singolo impianto va da 263 a 570 milioni di euro, a seconda delle caratteristiche. Ce ne parla Noemi Tummiolo. Nello Musumeci punta sui termovalorizzatori. Uno sorgerà nella zona orientale dell'isola, l'altro sul versante occidentale. Sette le aziende in corsa per la realizzazione degli impianti. Il governo regionale dunque tira dritto sulla strada segnata nei mesi scorsi. Siamo sulla buona strada per liberare la Sicilia dalla schiavitù delle discariche. Sono 511 quelle dismesse, nonostante il significativo aumento della raccolta differenziata portiamo ancora troppa spazzatura negli impianti di smaltimento esistenti. Per questo abbiamo bisogno di trasformare i rifiuti in risorsa con i termo utilizzatori, ha detto Musumeci. Gli obiettivi per liberarci dal problema rifiuti in Sicilia sono due. Da un lato aumentare il più possibile la raccolta differenziata, dall'altro tutto quello che è indifferenziabile farlo diventare materia prima per produrre energia, per produrre calore. Avviene in ogni parte d'Europa, speriamo ci si renda conto che dobbiamo farlo anche in Sicilia. Con noi e con l'impegno di tutti i sindaci la raccolta differenziata è passata dal 19 al 47%. Davvero vogliamo ringraziare i cittadini e le amministrazioni comunali. Rimane una quota importante che dovrebbe andare a finire nelle discariche e siccome abbiamo trovato in Sicilia 511 discariche, non ce lo possiamo permettere più questo lusso. Due termo utilizzatori consentiranno di produrre ricchezza, quindi di energia e di evitare di creare ancora discariche. La procedura è avviata, speriamo si concluda presto. Chiaramente ancora non raggiungiamo l'obiettivo del 65%, il fatto che dal 18% siamo già al 47%, questo chiaramente è un indicatore chiaro, concreto di un percorso avviato e che dobbiamo sostenere. Proprio negli ultimi mesi il fatto che le tre città metropolitane abbiano anche cambiato un po' la loro politica e hanno incrementato la differenziata ci fa ben sperare. Sono sette le manifestazioni di interesse arrivate al 31 dicembre per la realizzazione dei due termo utilizzatori, tre per quello dell'area occidentale e quattro per quello della parte orientale della Sicilia. Secondo le stime il costo di un singolo impianto può arrivare fino a 570 milioni di euro in base alle caratteristiche previste dal progetto di fattibilità con una capacità di trattamento fino a 450.000 tonnellate all'anno. Le sette proposte sono allo studio del nucleo tecnico di valutazione composto da otto dirigenti generali di altrettanti dipartimenti regionali competenti in materia che si esprimerà entro i prossimi 15 giorni per le valutazioni di competenza. Il progetto di fattibilità approvato sarà quindi posto a base di una gara per l'affidamento della concessione alla quale verrà invitato il proponente che dovrebbe richiedere circa sei mesi. I tempi di realizzazione di un impianto sono in media di tre anni, si va da un minimo di sei a un massimo di 57 mesi. Il risultato di 30 anni di politica dei rifiuti, ha concluso Musumeci, ci ha portato a un punto di non ritorno, ecco perché adesso bisogna correre. Raggiungere l'obiettivo della realizzazione dei due termovalorizzatori sarebbe un risultato storico, ma la nostra prima preoccupazione è vigilare sulla correttezza della procedura, cercando di essere quanto più celeri possibile. Non ci deve essere spazio per intrusioni criminali. Oggi pomeriggio a Menfi la seduta aperta del Consiglio Comunale presso il Centro Civico Fondazione Inicon, alla presenza dei deputati regionali e nazionali del territorio, dedicata alla situazione di Portopalo e agli interventi da effettuare a seguito dell'alluvione dello scorso novembre, che ha provocato danni alle abitazioni, ai fondi agricoli, alla viabilità, alle attività commerciali e al costone di Portopalo, con conseguente pericolo anche per la torre. Una seduta chiesta nei giorni scorsi dai gruppi Idea Menfi e Noi per Menfi. Intanto il deputato regionale Carmelo Pullara ha presentato un'interrogazione al Presidente della Regione e all'assessore al territorio ambiente per chiedere chiarimenti urgenti in merito alle azioni straordinarie adottate per la messa in sicurezza della borgata. Non è mia intenzione mancare di rispetto al Presidente del Consiglio Comunale, consigliere al Sindaco e alla Giunta di Menfi, non partecipando alla seduta di oggi pomeriggio, dichiara Pullara, ma al fine di evitare che le parole facciano dimenticare i fatti ai quali il Governo e i suoi enti strumentali devono dare risposte concrete, preferisco avanzare interrogazione scritta urgente per sapere cosa si è fatto e cosa si farà in tempi brevi. Contrasto all'erosione della costa nell'Agrigentino. Sarà pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'avviso di gara per individuare l'impresa che dovrà portare al termine l'intervento di protezione del versante tra Porta Empedocle e Agrigento in contrada Caos. L'importo complessivo dell'appalto è di 2,7 milioni di euro finanziato dalla Protezione Civile. I lavori dureranno 365 giorni. Le istanze potranno essere presentate entro l'11 marzo prossimo. Passo in avanti nel contrasto all'erosione della costa nell'Agrigentino. Nello specifico si dovrebbe intervenire a breve tra Porta Empedocle e Agrigento, in particolare in contrada Caos, dove recentemente si sono verificati i crolli di porzioni di falesia. Sarà pubblicato domani sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'avviso di gara per individuare l'impresa che dovrà portare a termine l'intervento di protezione del versante a salvaguardia dell'infrastruttura aviaria e dell'agglomerato urbano sovrastante, progetto redatto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile guidato da Salvo Cocina. L'importo complessivo dell'appalto è di 2,7 milioni di euro finanziato dalla Protezione Civile. I lavori dureranno 365 giorni. Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12 dell'11 marzo prossimo sulla piattaforma telematica dei lavori pubblici in Sicilia. Il progetto prevede la realizzazione di una secca temporanea di protezione insieme a un ripascimento alla base della falesia in corrispondenza del canalone a valle dell'imbocco della galleria in modo da stabilizzare la porzione di versante. Saranno poste barriere a mare finalizzate ad arginare le onde. Verrà realizzato il ripascimento di porzione del litorale con avanzamento della linea di riba che tiene conto della naturale evoluzione morfologica. Al fine di rendere possibile l'azione combinata dei due interventi a monte e a valle della falesia, attraverso un coordinamento con ANAS, l'ufficio contro il dissesto idrogeologico, la prossima settimana procederà alla convocazione di una riunione tecnica per il coordinamento dei due interventi pianificati nell'area. Giunge al termine il lungo e complesso iteramministrativo, dichiara il presidente della regione Nello Musumeci, che ci consente di dare una risposta concreta ed efficace ad un grave problema di stabilità idrogeologica che mette a repentaglio un importante tratto di costa della provincia grigentina con conseguenze sulla strada statale 640. Parallelamente dovrebbe agire l'ANAS per l'intervento di sua competenza finalizzato alla regimentazione delle acque e alla protezione dell'infrastruttura stradale. Il bando rivolto alla contrada Caos di Agrigento arriva pochi giorni dopo il via libera definitivo a un altro discusso progetto contro il dissesto idrogeologico in provincia, quello per il ripascimento del litorale di Eraclea Minoa. Era stato l'assessore al territorio ambiente Toto Cordaro, in quel caso a firmare il decreto che prende atto dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali e rendere finalmente possibile l'avvio dei lavori. L'obiettivo anche in questo caso è quello di frenare il fenomeno che ha permesso al mare di aggredire alcuni tratti della spiaggia, della retrostante Pineta e delle attrezzature turistiche. Dal punto di vista tecnico l'intervento a Eraclea Minoa prevede la realizzazione di tre pennelli costituiti da massi ciclopici e il ripascimento della spiaggia. Completamento dell'anello autostradale Gela-Castelvetrano. Botta e risposta tra l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone e il deputato agrigentino del PD Michele Catanzaro. L'assessore ha risposto alla sollecitazione del deputato sull'esigenza di avviare con urgenza l'intervento, individuando sul tratto in questione un'attività relativa ad una presunta tratta ferroviaria. L'area sud-occidentale della Sicilia non ha più una rete ferroviaria dagli anni Ottanta e non si è mai parlato di farne una nuova replica Catanzaro. Urge sermai rinnovare la rete viaria già esistente. Il deputato auspica dunque un chiarimento in merito. E adesso la rubrica, il libro del giorno. L'Amberto odia giocare a nascondino e le case abbandonate, ma è sicuro che i suoi compagni si siano nascosti lì. Quando però si gira, chi si trova davanti non è uno di loro. Chi si trova davanti è una donna che stringe in mano una pistola. L'Amberto e Irene si incontrano così. Lui è un ragazzino impacciato e timido che trova le risposte giuste alle prese in giro unicamente quando è solo nella stanza con i suoi disegni. Lei ha dedicato tutta la sua vita a una causa che è più importante di tutto, le Brigate Rosse. Dovrebbe denunciarla, ne è certo, ma a mano a mano che si conoscono, l'Amberto scopre di sentirsi più forte e più sicuro, perché Irene gli insegna che bisogna dire sempre quello che si pensa senza paura. Bisogna credere in se stessi e ribellarsi contro chi vuole decidere al nostro posto. Mentre l'Amberto le trasmette un dubbio che nella donna non era mai affiorato, se l'aver sacrificato ogni cosa per cambiare il mondo sia stata la scelta giusta, se non era possibile modificare il sistema, diversamente, se soprattutto quel segreto che non ha mai detto a nessuno poteva cambiare tutto. Dove si nascondono le rondini di Enrico Losso, Edito Garzanti. Siamo allo sport calcio. La partita di domenica tra Unitas Sciacca e Dolce Onorio Marsala si potrebbe giocare a porte chiuse. Questo è quanto emerge alla luce dall'ennesima fitta corrispondenza tra il Comune e la Questura, che avrebbe richiesto da alcune settimane nuovi documenti e relazioni tecniche riguardanti lo stadio Gurrera. Ancora non esitati. La questione sarebbe emersa subito dopo la partita casalinga contro il Canicattì. Sentiamo. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma l'Unitas Sciacca potrebbe essere costretto a giocare la partita casalinga di domenica pomeriggio contro il Dolce Onorio Marsala a porte chiuse. Una questione emersa soltanto nelle ultime ore, ma che in realtà andrebbe avanti già da alcune settimane. Questo è quanto si evince dalla fitta corrispondenza e carteggio tra il Comune di Sciacca e la Questura e del Grigento, che avrebbe richiesto già da tempo nuovi documenti e relazioni tecniche riguardanti lo stadio Gurrera, carte che, al momento, non sarebbero state ancora esitate. I dirigenti dell'Unitas Sciacca sono tutti al lavoro per scongiurare una problematica che, chiaramente, potrebbe avere gravi ripercussioni dal punto di vista economico, tra mancati sbigliettamenti e sponsorizzazioni. Da quanto si apprende, la questione burocratica sarebbe cominciata subito dopo la partita casalinga disputata ad inizio dicembre contro la capolista Canicattì. Da lì, dapprima la richiesta di eseguire alcuni lavori interni sugli spalti del settore ospiti, cosa che è stata prontamente fatta, e poi lunghe interlocuzioni e scambio dimissive, con la situazione che, via via, dal punto di vista burocratico, si sarebbe complicata sempre di più, fino allo stato attuale. Dovrebbe essere convocata e riunirsi, nel più breve tempo possibile, la Commissione Spettacolo del Comune e del Libero Consorzio del Grigento, per esitare tutti i documenti richiesti, mentre dirigenti comunali e dirigenti dell'Unitas stanno lavorando alacremente ad una soluzione provvisoria o definitiva che possa superare tutti gli ostacoli frapposti. Sembra inutile sottolineare comunque come la quasi totalità degli impianti e stadi appartenenti alle squadre scritte al girone A del campionato di eccellenza versano in condizioni che, eufemisticamente, potremmo definire non ottimali, eppure al momento dalle altre parti si gioca praticamente dovunque a porte aperte e senza particolari patemi d'animo. La problematica ovviamente per i neroverdi potrebbe riguardare non soltanto la prossima partita casalinga, ma anche quelle a seguire, anche se, come detto, si farà tutto il possibile per evitarlo. Dal punto di vista sportivo, lo sciacca è in piena lotta per evitare la zona play-out, proviene dalla bella prestazione e vittoria di Marineo e si prepara allo spareggio salvezza di domenica contro il Marsala. Ancora sport, ripresa agonistica dopo due mesi di stop anche per la Icaro Basket di Shaq, che ieri sera la Sicilia Sport ha vinto contro il Marsala nel campionato Under-19. Protagonista è il giovane Karam con 20 punti, ingresso nello staff tecnico della Icaro con il ritorno in società di Santo Tirnetta per anni giocatori della squadra Saccense. Seguiamo quest'altro servizio. Dopo due mesi di stop forzato, prima per le festività natalizie e poi per l'aumento esponenziale dei casi di positività al Covid-19, riprende la stagione agonistica anche per la pallacanestro. Ieri sera, infatti, è tornata in campo la Icaro Basket, officina Raneli di Sciacca, che finora aveva potuto soltanto allenarsi, come da protocolli sanitari e federali. Il sodalizio di Giovanni Monastero ha superato in casa alla Sicilia Sport il Marsala per 68 a 40, formazione già battuta anche all'andata. La partita di ieri sera era valevole per la prima giornata di ritorno del campionato Under-19. Prima della sosta si era riusciti, infatti, a completare interamente il girone di andata. Bella serata di sport per i colori seccensi, con la Icaro Basket che ha condotto il match dall'inizio alla fine, superando gli avversari in ognuno dei quattro quarti. Questi i parziali, 16 a 10, 13 a 10, 9 a 8 e 20 a 12 nell'ultimo quarto, per un finale, come detto, di 68 a 40 per i padroni di casa. Le foto che vi mostriamo si riferiscono appunto all'incontro di ieri sera e sono state scattate da Santo Tirnetta, che è tornato a far parte, da qualche settimana, dello staff tecnico della Icaro, occupandosi particolarmente degli aspetti riguardanti i rimbalzi, la difesa e il contropiede. Per Tirnetta, quindi, un ritorno come assistente tecnico dopo aver giocato per tanti anni con la squadra seccense. Questi i marcatori di ieri sera. Il miglior realizzatore è stato Jibara Karam con 20 punti, poi Riccardo Gallo con 19 punti, Antonino Di Stefano 8, Pier Nicolò Armata 7, Jibara Giud 2, Pietro Barone 8, Alessio Curreri 2 e Riccardo Rizzo 2 punti. In campo anche i giovani Jimmy Ragusa, Sebastiano Vella Bianchettino e Francesco Pumiglia. Migliore in campo è stato Riccardo Gallo. Il prossimo incontro per la Icaro Basket di Monastero adesso è previsto per venerdì 25 febbraio, in trasferta ad Alcamo contro la formazione locale. Ed è con lo sport che chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie come sempre per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni.